Buonasera, una giornata importante e anche drammatica per molti aspetti sotto il cielo della politica. Cosa è successo? Che per tutto il giorno si sono rincorse voci di una possibile passo indietro di Berlusconi, di dimissioni del Premier. Fin dalla prima mattinata, come sentiremo, notizie che si rincorrevano e che hanno anche influito sui corsi dei mercati finanziari, sulle azioni, lo spread che era volato altissimo al record è sceso alla notizia delle possibili dimissioni del Premier per poi risalire con la smentita data da Berlusconi, ma che vado avanti, tiro dritto, chiedo la fiducia, voglio guardare in faccia chi mi tradirà, i traditori, chi mi vorrebbe votare contro dopo essere stato portato da me in Parlamento o addirittura nel Governo. Con questa presa di posizione sembrava tutto archiviato il discorso, se non che un'altra clamorosa novità è arrivata nel pomeriggio. Voci improvvise nelle ultime due ore di un passo della Lega che, mandando Calderoli ad Arcore, dove Berlusconi stava incontrando familiari e consiglieri, deciso ad andare avanti, Calderoli portava la linea della Lega che era di chiedere un passo laterale al Premier, cioè di mettersi indicando subito un successore che la Lega avrebbe senz'altro approvato. Il nome è quello di Angelino Alfano, l'attuale segretario del PDL. Berlusconi ha detto no, vado avanti io, ho i numeri, fidatevi. Quindi la situazione resta fluttuante perché contemporaneamente ci sono stati altri due incontri importanti, tutte e due inattesi. Uno tra i Presidenti di Senato e Camera. Schifani e Fini ovviamente hanno opinioni diverse sul corso della crisi. Sta di fatto che il Senato, l'Assemblea di Palazzo Madama, ha una solida maggioranza a favore del Premier e anche Schifani ovviamente è vicino a Berlusconi. La situazione è molto diversa alla Camera, sia perché c'è un Presidente notoriamente passato all'opposizione, uno dei leader del terzo polo, sia perché, come si sa, i numeri alla Camera sono fortemente in discussione. E domani alla Camera dovrebbe arrivare al voto, come sappiamo, un passaggio importante, quello sul rendiconto dello Stato. Mentre nei giorni successivi, non domani né dopodomani, si va a votare al Senato la fiducia, secondo quanto ha detto lo stesso Berlusconi, sul maxiemendamento, quello che recepisce, maxiemendamento alla legge di stabilità, che recepisce quella che è la lettera famosa di impegni dell'Italia in sede europea. Ma l'altra riunione è in corso, è la riunione di tutte le opposizioni, ancora da fini. Nello studio del Presidente della Camera ci sono tutti i leader del terzo polo e del centro-sinistra rappresentati in Parlamento. Devono decidere che fare sulla possibilità di una mozione di sfiducia a questo punto, ovviamente scottati da quello che è successo ormai 11 mesi fa, nel famoso voto del 14 dicembre dello scorso anno, quello scampato per tre voti da Berlusconi. Ebbene, a quanto pare, si va a una possibile mozione di sfiducia a ragione veduta. Tutto questo, ovviamente, lo spread, la borsa, sono restati sullo sfondo, ma sono molto importanti, perché il nostro Paese è ancora nel mirino della speculazione e non soltanto nel mirino della speculazione. Si parla addirittura di uno spread arrivato a oltre 490. Siamo a pochi decimali dalla zona limite, quella oltre la quale non si sono più risollevate la Grecia, l'Irlanda, il Portogallo. E si teme quindi molto che la speculazione possa ancora andare avanti se domani in Parlamento o fuori dal Parlamento le notizie politiche consiglieranno ulteriormente di credere che la situazione italiana è fuori controllo o non si è chiarita, gli impegni non vengono mantenuti. In questo quadro è anche lunedì ed è il giorno, come sappiamo, dei nostri sondaggi. Non sorprenderà sapere, ma lo vedremo insieme più dettagliatamente, che il partito che ci rimette di più è proprio quello del Premier, che arriva al suo nuovo minimo storico. E poi dovremo parlare ovviamente anche dell'alluvione. Per fortuna la piena del Po non ha fatto ulteriori danni. La situazione a quanto pare può tornare gradualmente alla normalità anche se nuove perturbazioni sono in arrivo. E c'è anche la nostra solidarietà. Ci sono i titoli adesso. Alla fine anche la Lega ha invocato un passo indietro, per meglio dire, un passo laterale per Berlusconi. Ad Arcore, come messo di questo invito, è andato Calderoni, ma Berlusconi ha risposto con un secco no. Ho i numeri, andiamo avanti, supereremo lo scoglio della fiducia. Ma le voci sulle dimissioni di Berlusconi si sono rincorse per tutta la mattina. Prima lanciate dall'ex ministro Cirino Pomicino, poi riprese addirittura da Giuliano Ferrara. Ci credono anche le borse che guadagnano punti e recuperano sullo spread, almeno finché non arriva la smentita secca dell'interessato. 60 minuti di faccia a faccia tra il Presidente del Senato Schifani e quello della Camera Fini, perché da domani tra Montecitorio e Palazzo Madama, dove Berlusconi ha una più solida maggioranza, si gioca per davvero tutto il futuro della legislatura. E poi Fini riunisce tutte le opposizioni parlamentari che decidono di fare l'affondo, puntare alla presentazione di una mozione di sfiducia al governo, ma stavolta senza sorprese e purché ci siano numeri certi, dicono tutti pensando a cosa è successo al passato. Amato, il nome di cui si parla di più, anche Monti e più defilato Letta. In questo quadro politico le borse vanno sull'otto volante, su, giù e poi ancora su. Piazza Fari chiude unica in Europa in positivo, ma lo spread rimane altissimo, a quota 480 punti. Per l'Italia tornano nubi nerissime, ma dalla Germania il messaggio è chiaro, voi non siete la Grecia. E il nostro sondaggio del lunedì vede oggi ancora una flessione del PDL dello 0,4%, mentre il PD cresce di 1,02% e anche il terzo polo avanza. E anche l'affluenza è di più. A Torino l'andata di piena è passata senza gravi danni. Da stamattina, da domattina, riaperte le scuole, stamattina riaperti i ponti dal livello di allerta, è sceso da 3 a 2 a Genova, giornata di lutto, con il saluto alle vittime dell'alluvione. Buongiorno, allora, buonasera. La notizia di queste ultime ore è che anche la Lega ha chiesto un passo indietro, un passo laterale. L'ha definito l'autorevole esponente del Carroccio a cui abbiamo chiesto conferma della voce che gira da alcune ore. a portare la proposta della Lega che è stata vagliata e decisa in una riunione nella sede del Carroccio in via Bellerio a Milano è stato il ministro Calderoli che è andato ad Arcore dove ha incontrato Berlusconi che era alle prese con un vertice con consiglieri strettissimi e familiari. Berlusconi, a quanto si sa, ha risposto di no all'offerta della Lega di andare a delle dimissioni pilotate a una crisi di governo pilotata e una nuova formazione di governo guidata da Alfano con probabilmente Maroni vice previa. Berlusconi ha detto no, voglio provare, credo di avere assolutamente i numeri e ce la posso fare. Allora, vediamo il servizio che non contiene questa novità dell'ultima ora. Anzi, il servizio non è ancora pronto. La novità dell'ultima ora è questa, quindi è confermato che la Lega ha chiesto un passo di Berlusconi che il Premier non ha voluto compiere. Vediamo. A sorpresa, mentre a Roma si profetizzano le sue dimissioni, Silvio Berlusconi lascia Palazzo Grazioli per Arcore. Lontana quanto basta dal Quirinale dove molti, perfino ormai apertamente nel suo partito, lo spingono a recarsi e vicino ai figli, Marina, Pier Silvio e alle aziende. Si tiene a nord il Consiglio di Guerra, lo snodo cruciale, la visita del ministro leghista Calderoli, ambasciatore della richiesta del Carroccio. Berlusconi faccia un passo indietro e proponga lui stesso un nuovo governo presieduto da Angelino Alfano. È una vecchia idea del Carroccio che presuppone magari Maroni, vicepremier. Lo stesso Maroni che ieri in TV ha dichiarato che la maggioranza non c'è più, che i numeri Berlusconi li ha persi per strada e ancora che è meglio evitare di fare la fine di Prodi. La novità però è che Bossi la pensa come il ministro dell'Interno. La Lega dice che non ci sono alternative alle elezioni ufficialmente, ma ad Arcore la linea è stata diversa. Berlusconi ascolta, poi dice no. Calderoli ritorna via Bellerio, dove lo Stato maggiore leghista è riunito dalla tarda mattinata per riferire la risposta del Premier. Peggio per lui, sussurrano nel Carroccio disponendosi ad aspettare. Guardano con attenzione i movimenti dell'opposizione e quelli dei transfugli del PDL. Calderoli prova a smentire, ma l'invito al passo indietro ormai è trapelato e ha le sue conferme. Perché oggi in una giornata convulsa tutto salvo la percezione che il bradisismo in atto è possibile e tutto è in movimento. Berlusconi raccoglie l'invito a resistere il più possibile dalla figlia Marina e da fedele confalonieri, nonostante altri consiglieri presenti ad Arcore, per esempio Niccolò Ghedini, si spendono per le dimissioni a favore di Gianni Letta, che a Roma intanto diceva così. Il principio della continuità amministrativa, cioè nel passaggio, non è che lo sto spiegando, da un governo o l'altro, gli impegni assunti non è che si rinnovano o cadono, continuano. Lo dicono la russa, Gasparri e poi lo stesso Berlusconi, che il governo andrà avanti, che arriverà a Natale, supereremo lo scoglio della fiducia, dice Berlusconi. Lo conferma Rotondi, che il punto è arrivare a prendere la fiducia al Senato, non sarà prima della prossima settimana, visto che Tremonti sta impiegando molto tempo a scrivere il maxi emendamento, varato teoricamente nel Consiglio dei Ministri della settimana scorsa. Il tempo gioca a sfavore, dicono gli ottimisti del PDL, quelli che teorizzano sia ancora possibile la riconquista degli scontenti. Nonostante alla lista di chi si smarca con più o meno forza, si aggiungano oggi nomi di peso. Frattini dice chiaramente che l'idea della fiducia sul maxi emendamento non piace, e dell'Argentina invece sì. Allora, questo è quello che è successo, quindi anche la Lega prova a forzare la situazione, Berlusconi vuole tirare dritto. In realtà però, per tutta la mattinata, a cominciare dalla prima mattinata, è stato un tam tam incessanti di voci sul Premier che ha deciso di rimettere il suo mandato. Presumo che oggi sia la giornata conclusiva. Non credo che si arrivi alla votazione domani, ma questa è una mia opinione, naturalmente. La profezia di Pomicino piomba sorpresa nello studio di Omnibus alle 9.30. L'ex ministro democristiano, indicato come gran traghettatore di deputati dalla maggioranza all'Udc, dà corpo alle voci sulle imminenti dimissioni del Premier. Il suo sembra più che altro un auspicio, visto che contemporaneamente arriva la notizia che Berlusconi ha lasciato Palazzo Grazioli in direzione Arcore, allontanando nei fatti la salita al Quirinale. Passano pochi minuti e Fabrizio Cicchitto bolla le voci come fantasie. Il presidente Berlusconi e il PDL si ripromettono di sviluppare una iniziativa politica in più direzione, dice il capogruppo alla Camera. Negli stessi minuti arriva la notizia del nuovo record dello spread, il differenziale tra i titoli decennali tedeschi e quelli italiani. 491 punti, quota 500 è un passo. Ma alle 11 sul sito del foglio appare un commento del direttore, Giuliano Ferrara, che sembra l'annuncio della svolta imminente. Che Berlusconi stia per cedere il passo ormai è una cosa acclarata, si tratta di ore, qualcuno dice perfino di minuti. Detta da Ferrara che di Berlusconi è consigliere, quella delle dimissioni sembra notizia certa, che rimbalza su palazzi e borse. Il PDL si diffonde il panico, imborsa l'euforia. Lo spread scende di 20 punti a quota 470, mentre un altro commentatore ben informato, il vice direttore di libro, Franco Bechis, dà ulteriore sostegno all'ipotesi. Berlusconi si sta per dimettere, per proporre un governo affidato a Gianni Letta. Ma pochi minuti prima dell'una arriva la smentita ufficiale del premier affidata all'agenzia ANSA. Le voci di mie dimissioni sono destituite di fondamento e non capisco come siano circolate. Si torna al punto di partenza, il quadro apparentemente in rapido mutamento si blocca, lo spread torna a risalire. Tanto più che lo stesso Berlusconi, poco prima delle 14, in una telefonata libero riportata sull'edizione online del quotidiano, ribadisce la linea dura, domani si vota e rendi conto alla Camera, quindi porrò la fiducia sulla lettera presentata a Unione Europea e BCE voglio vedere in faccia chi prova a tradirmi. Niente dimissioni dunque, almeno per oggi. E già, questo il convulso su seguirsi degli avvenimenti. Poi nel pomeriggio un'altra sorpresa. Dovevano partecipare insieme alla presentazione di un libro, importante, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Vietti, ma Schifani e Fini hanno fatto tardare tutto perché hanno avuto un incontro riservato per quasi un'ora. Dura un'ora l'incontro tra i due presidenti, Fini e Schifani riuniti nell'ufficio del presidente della Camera, in margine alla presentazione di un libro. Ufficialmente Schifani dice Nei momenti critici istituzioni e forze politiche devono dare il meglio di sé con spirito di servizio. Ma resta avvolto nel riservo il merito del colloquio fuori programma e durato a lungo. È evidente che si sia parlato del percorso parlamentare che attende il governo nei prossimi giorni. Domani il voto atteso è temuto alla Camera sul rendiconto, già clamorosamente bocciato all'articolo 1 dalla stessa assemblea di Montecitorio, su cui malpancisti e parte delle opposizioni potrebbero astenersi, tenendo la maggioranza sotto quota 315. E all'indomani la quasi certa richiesta del voto di fiducia sul maxi emendamento alla legge di stabilità che racchiude in sé i contenuti della famosa lettera di impegno all'Europa. Così il presidente del Senato vicino a Berlusconi e quello della Camera ora lontanissimo dal Premier si trovano a dialogare su quello che potrà e dovrà succedere per evitare scontri istituzionali gravi più che mai in questa fase critica. Quel che è certo è che il maxi emendamento non è ancora stato presentato perché la partita si gioca anche sui tempi. Il Premier vuole una fiducia nel ramo del Parlamento che non può dargli sorprese negative per poter affrontare una mozione di sfiducia alla Camera da una posizione di maggior forza così da poter gestire da Palazzo Chigi lo scioglimento delle Camere si dice negli ambienti parlamentari. Sicuramente la situazione resta di grande fibrillazione. In queste ore è continuato da parte del presidente del Consiglio anche il tentativo di fermare e invertire l'emorragia di voti nel PDL. Alla Camera gli ultimi a sfilarsi sono stati Gabriella Carlucci passata all'Udc e gli ex Finiani Urso e Buonfiglio hanno dichiarato che non voteranno domani in rendiconto dello Stato. Il pallottogliere della maggioranza scende pericolosamente ben sotto quota 316 quota salvezza. Questa quindi è la situazione del tutto fibrillante come diceva il nostro servizio. Domani si vedrà quanta disaffezione c'è nelle file della maggioranza in quel voto così importante sul rendiconto in cui molti potrebbero decidere di astenersi e per questo l'opposizione tenta di monitorare la situazione vedendo alla luce proprio del voto di domani se è il caso di presentare la famosa mozione di sfiducia cioè l'arma totale fallita purtroppo per le opposizioni che lo ricordano bene il 14 dicembre dell'anno scorso. Mozione di sfiducia l'ultima opzione dell'opposizione se Berlusconi dovesse insistere sull'avanti tutta da presentare a Montecitorio. Bersani, Casini e Rutelli ne avrebbero parlato con il presidente della Camera Fini e il leader dell'Udc è Sibillino con chi gli chiede l'Umi sull'iniziativa ogni giorno alla sua pena dice ma gli scerpa di PD e Terzopolo sono già al lavoro per convincere almeno una parte dei dissidenti del centrodestra a firmare la mozione che sancirebbe nero su bianco la fine della maggioranza azione estrema che potrebbe spingere il Premier alle dimissioni ma il dopo Berlusconi è ancora tutto da disegnare occorre un governo di larga coalizione con le forze maggiori senza il PD un nuovo esecutivo non si può fare ripete ancora Casini parole da molti lette come un nuovo governo guidato da Gianni Letta nome su cui il PD sarebbe indisponibile interpretazione che lo stesso Casini si affretta a smentire con una nota in caso di dimissioni del governo Berlusconi spetta al capo dello Stato e non ad altri l'indicazione di una personalità incaricata a riformare il nuovo governo non è stata da noi formulata alcuna valutazione sull'ipotesi di un governo presieduto da Gianni Letta che come si sa gode di massima stima ma il nome di Letta come quello di Schifani è indigeribile per il PD che vuole discontinuità cioè a Palazzo Chigi un tecnico di alto profilo come Mario Monti o Giuliano Amato D'Alema è chiaro se si deve costituire un governo per noi l'unico governo che ha un senso non è un governo di centro-destra allargato ma è un governo aperto a tutte le forze politiche di buona volontà e questo richiede una guida super partes come è evidente ma se la crisi sarà formalmente aperta la palla passerà a Napolitano e nel terzo polo sono convinti che di fronte alla moral suasion del capo dello Stato per formare un governo di emergenza il PD potrebbe mettere da parte le obiezioni sul nome di Letta chi di governi di larghe intese non ne vuole sapere è Di Pietro il governo tecnico ha senso solo se ha un compito preciso e limitato prima si va a votare e meglio è noi dell'IDV siamo disponibili a far quadrare i conti intervenendo sul 10% di italiani che è il 60% della ricchezza ma non a fare macelleria sociale affidando una faccia pulita come quella di Mario Monti il lavoro sporco dice il leader dell'Italia dei Valori insomma restano tre candidature in campo posto che davvero Berlusconi alla fine passi la mano quella di Giuliano Amato che si dice come dire fortemente sussurrata anche negli ambienti del Quirinale quella di Mario Monti che accontenterebbe le istanze europee e quella più di continuità ma accettata da molti di Gianni Letta il paesaggio diciamo non è affatto nitido la situazione è in continua evoluzione tra pochi istanti vedremo i sondaggi i nostri sondaggi del lunedì cosa ci documentano su quelle che sono le propensioni degli italiani se si andasse a votare e questa ipotesi si fa sempre più concreta ma prima bisogna dire che la Borsa ha vissuto abbiamo già visto prima negli aspetti politici una giornata di fregenda e lo spread resta a livelli molto molto alti e preoccupanti una buona notizia ed una pessima quella buona è che la Borsa italiana è l'unica oggi a chiudere in positivo Piazza Affari sembra aver fatto le prove per capire cosa accadrebbe ai mercati in caso di dimissioni di Berlusconi eventualità che a quanto sembra ritengono a questo punto non impossibile la pessima notizia riguarda il nostro debito pubblico al termine di questa giornata si registrano due record storici negativi il rendimento dei nostri buoni del tesoro decennale ha raggiunto il 6,69% e il differenziale tra quanto rendono i BTP decennali e i Bund tedeschi dopo aver fatto saliscendi tra notizie smentite delle dimissioni del Premier ha toccato la punta massima dei 491 punti per poi chiudere a 480 un livello quello dei BTP ancora troppo vicino a quella soglia del 7 oltre la quale Atene, Lisbona e Dublino sono andate a gambi all'aria per fortuna la nostra economia ha dimensioni struttura e risorse non paragonabili a quelle di Grecia Portogallo e Irlanda lo ha ricordato anche oggi il severo ministro delle finanze tedesco Schäuble entrando a Bruxelles al vertice Eurogruppo i dati sull'economia reale dell'Italia ha detto non giustificano il nervosismo dei mercati ma questo non ci autorizza a stare tranquilli proprio oggi il tesoro ha annunciato la cancellazione dell'asta di 5 miliardi di bot a tre mesi prevista per giovedì non abbiamo specifiche esigenze di casse è stata la spiegazione ufficiale gli operatori finanziari che abbiamo contattato da un lato non credono a questa motivazione dall'altro approvano la scelta prudente di non andare in giro a chiedere danaro adesso visto che anche i rendimenti dei bot a breve termine 2 e 5 anni sono superiori a quelli a 10 bruttissimo segno il governo deve dunque sbrigarsi con i provvedimenti di risanamento anche oggi tuona la commissione europea con misure per la crescita più coraggiose dice il commissario europeo agli affari monetari Olli Ren sulle politiche fiscali l'Italia deve fare catenaccio raggiungere tutti gli obiettivi ma sulle riforme strutturali c'è poco spazio per fare gioco difensivo dovete andare all'attacco per dare slancio all'economia e se lo dice lui che è stato presidente della Lega Calcio Finlandese possiamo crederci e conosce la parola catenaccio allora è lunedì il nostro sondaggio ovviamente si veste di nuovi colori è il caso di dire perché la prospettiva fin qui virtuale lungo tutti questi mesi di un voto se oggi si votasse dico tutti i lunedì adesso si fa come dire più verosimile visto che sul tappeto c'è l'ipotesi addirittura di andare a votare a gennaio ma se si votasse oggi il nostro sondaggio dà queste evidenze questi risultati iniziamo dal centro destra il popolo della libertà scende al 25 e 6% meno 0,4 in una settimana per intenderci vedete nell'ultima colonnina nel 2008 all'atto dell'elezione di Berlusconi aveva il 37,4 vero che ha subito l'emoragia di future libertà ma come vedremo tra poco non basta questo a spiegare a spiegare una simile calo 25,6% stabile la lega all'8 e 9% la destra stabile a sua volta all'1,5% come le forze che raggruppiamo nel grande sud cioè forza sud io sud noi sud 0,6% il terzo polo stabile al 4,3% futuro e libertà guadagna 1,01 l'unione di centro di Pierferdinando Casini al 7,1% stabile il movimento per l'autonomia di Raffaele Lombardo governatore della Sicilia e guadagna 1,01 arrivando all'1% tondo l'alleanza per l'Italia di Francesco Rutelli centro-sinistra il partito democratico si riprende uno 0,2% va al 26,6% anche l'Italia dei valori guadagna allo 0,2% e va al 7% stabile allo 0,4% la lista Bonino Pannella e guadagna 1,01 all'1,3% il partito socialista italiano perde lo 0,4% sinistra ecologia e libertà di Niki vendola all'8,3% più 0,1% per gli ecologisti verdi reti civiche che vanno allo 0,6% stabile all'1,5% la federazione della sinistra di Ferrero e di Liberto fuori dai poli fuori dai raggruppamenti attuali e possibili ci sono il Movimento 5 Stelle che si riguadagna uno 0,2% al 3,4% e poi è stabile la City Roller Volkspartei allo 0,4% il partito liberale pure allo 0,4% perde uno 0,2% l'insieme la galassia delle altre formazioni allo 0,4% l'astensione che è stata prossima e ha superato anche il 30% nelle scorse settimane scende al 27,7% anche stabili e in discesa gli indecisi al 15,9% la bianca chi voterebbe scheda bianca 2,6% possiamo parlare di trend Masia non l'abbiamo fatto nelle scorse settimane ma ci sono dei dati che sono sempre confermati e che si consolidano assolutamente sì se guardiamo la tendenza dell'ultimo mese quindi un dato piuttosto solido abbiamo una maggioranza che ha perso un punto e mezzo è praticamente tutto concentrato sul PDL un terzo polo che ha preso più di un punto e il centro-sinistra che ha guadagnato un punto praticamente un grande spostamento dei voti verso l'area centrista del panorama elettorale verso l'area meno radicale del centro-sinistra quindi vedo scusi anche in generale una crescita dei piccoli partiti come verdi socialisti liberali un fenomeno contrario al classico processo di polarizzazione del voto che precede la giornata elettorale secondo lei i cittadini del vostro campione i potenziali elettori sentono l'avvicinarsi reale del momento del voto ma direi proprio di sì perché è aumentata la partecipazione dichiarata e anche diminuita la percentuale di indecisi probabilmente c'è anche maggiore attenzione in questo momento a tutti i fenomeni che stanno sotto il cielo della politica questa frase l'ho già sentita senta senta Masia vediamo che in alcune formazioni si consolida la tendenza in particolare nel terzo polo si stagliano delle precise geometrie un partito del 7% un partito del 4,5% gli altri due partiti minori se entrassero altre figure si parla spesso Montezemolo ma anche Marcegaglia eccetera questa geometria cambierebbe? beh sono figure che comunque godono di buona fiducia nell'elettorato e potrebbero probabilmente potrebbero essere in grado di attrarre altri elettori delusi che provengono soprattutto dall'elettorato berlusconiano e quindi del PDL le devo fare però una domanda politica anche si è parlato sembra che l'abbia chiesto la Lega questa sera a Berlusconi di un passo indietro del Premier e magari di un passo avanti di Alfano o di Letta questo cambierebbe il processo di disaggregazione rispetto al centrodestra? cioè potrebbe reintercettare l'elettorato in uscita? questo potrebbe anche essere una possibilità però gli attuali elettori del PDL ancora hanno una buona fiducia in Berlusconi quindi non so francamente se questo effetto possa essere di dimensione rilevante oppure marginale ultima domanda i giovani perché noi non parliamo mai dell'età degli elettori l'elettorato giovane ha delle propensioni distinte e distinguibili? sì direi di sì perché l'elettorato giovane vota molto i partiti di sinistra è molto forte in Beppe Grillo ma nell'elettorato di centro ad esempio futuro libertà è più forte sull'elettorato giovane mentre l'elettorato per esempio del PDL e della Lega in questo senso è un pochettino penalizzato allora grazie Masia quest'ultima domanda sui giovani ci porta a un'evidenza di ben altro tipo di sondaggio di oggi perché è una statistica non è un dato edemoscopico ma è un dato statistico comprovato che esce da un'istituzione importante come la Banca d'Italia e ci conferma che c'è un numero impressionante di giovani in Italia che non studia non fa tirocinio non sta lavorando non sta facendo assolutamente nulla e non per sua propensione o per colpa sua in Italia ci sono ormai almeno 2 milioni e 200 mila ragazzi categoria che va dai 15 ai 29 anni che non studiano né lavorano nel 2008 erano poco meno di 2 milioni se già il dato di per sé è sconfortante ciò che l'ufficio studi della Banca d'Italia ha scoperto analizzando ulteriormente i dati tuttavia è quasi peggio perché i NEET terribile acronimo che sta appunto per Not in Education Employment and Training insomma né studio né lavoro sono aumentati progressivamente più al nord e al centro che al sud dove tuttavia prima della crisi del 2008 erano già almeno il 30% dei ragazzi la situazione attuale insomma ha livellato il divario e colpisce più le donne che gli uomini 26% delle ragazze sembra infatti aver abbandonato ogni speranza contro il 20% dei ragazzi e comunque trovare un lavoro anche temporaneo diventa sempre più difficile solo il 26% c'è riuscito nel 2010 ma ci ha messo almeno 12 mesi inutile poi sperare di trovare aiuto a casa un ragazzo su 4 vive in una famiglia dove nessuno lavora e la sopravvivenza è affidata a pensioni e sussidi questo è un aspetto della situazione italiana molto grave e molto importante ma l'Italia è fatta anche di forte solidarietà quella che si è vista in questi giorni nelle zone dell'alluvione e fra l'altro a Torino e nel Piemonte l'allarme scende di livello e a quanto pare il grande fiume non ha voluto infierire l'acqua è passata sotto i ponti a Torino senza fare grossi danni la Piana del Po arrivata la scorsa notte è andata via liscia verso valle si sono allagati solo i soliti murazzi con i locali della movida torinese ma quella in città si può dire che è prassi rischio calcolato succede ogni volta i ponti chiusi sulla Dora sono stati riaperti stamattina all'alba le scuole l'università i centri diurni per disabili e minori domani si lavora per togliere le foglie il classico zelo piemontese niente caos i sindacati hanno revocato lo sciopero dei mezzi pubblici la ZTL è stata aperta gli evacuati sono ritornati al loro posto compresi i Roma del Lungostura con annessa polemica leghista i danni sono limitati e alla fine sarà solo la regione Piemonte a chiedere lo stato di calamità naturale da stasera e domani tornerà a piovere forte su Cuneese e Torinese ma il livello d'allerta è già sceso da 3 a 2 la quota neve si è abbassata e questo significa meno acqua nei fiumi mentre mercoledì l'emergenza dovrebbe terminare tutti i meccanismi di monitoraggio e di allertamento sono pienamente operativi in ragione tale che qualsiasi eventuale criticità sia tempestivamente affrontata contestualmente se la situazione rimane questa abbiamo il dovere di diciamo di facilitare il ritorno alla normalità della vita della città e lo stiamo facendo il giorno del dolore di Genova comincia con le parole di Domenico il figlio sedicenne di Angela Chiaromonte una delle sei vittime dell'ubifragio di tre giorni fa ha visto la mamma indiotita dall'acqua nell'androne trappola di via Ferregiano 2 oggi i funerali della donna in una chiesa piena mia madre secondo me mi ha aiutato è stato un eroe che è morta per me per salvare me basta nel giorno del lutto cittadino di una Genova ferita tre sciacalli vengono allontanati da una folla di volontari devono intervenire i carabinieri le scuole sono chiuse oggi lo saranno anche domani le scuole che sono al centro di una polemica contro il sindaco Marta Vincenzi colpevole per molti di non averle chiuse quel giorno e di aver mandato una mail alle 15.35 per chiedere di trattenere i bimbi dentro troppo tardi quando tutto era già successo all'istituto Salesiano di via Ferregiano guardano il computer insieme a noi oggi quel venerdì a mezzogiorno era già saltato tutto senza luce senza cellulari alle 15 e poi anche l'avessimo visto il buon senso perdonate era prima che doveva scattare l'allarme l'inchiesta aperta dalla procura per disastro e omicidio colposo dovrà accettare eventuali responsabilità l'allerta 2 è stata prorogata domani perché nella notte dovrebbe piovere ancora già 5 milioni e 200 mila euro sono il risultato della nostra sottoscrizione per le popolazioni alluvionate di Genova del Levante Ligure e della Lunigiana vi ricordo ancora brevissimamente che basta un sms al 45 500 per dare 2 euro per la sottoscrizione Corriere della Sera Tg la 7 tra poco ci sono Feltri e Rampini da Lilli Gruber poi c'è l'Infedele dove Gad Lerner ha veramente un fracco di ospiti molto importanti per parlare sia dei fatti dell'economia dei problemi della nostra Italia in crisi sia della situazione politica ci fermiamo l'ultima notizia del giornale ci riporta alla prima quella del freddo tra Lega e Pdl con il carroccio che ha chiesto il passo laterale indietro scegliete voi al Premier che ha detto di no Berlusconi ha lasciato Arcore non c'è quindi stasera la tradizionale cena del lunedì con Bossi e gli altri leghisti sta verosimilmente tornando nella capitale domani è il giorno del voto alla camera sul rendiconto ci fermiamo qui linea Lilli Gruber e poi a Gad Lerner buonasera domani benvenuti a 8 e mezzo buonasera benvenuto Federico Rampini editorialista di Repubblica nonché saggista buonasera a Milano Vittorio Feltri editorialista del giornale Vittorio una domanda al volo secondo te sta per dimettersi Berlusconi e dovrebbe farlo? escludo che stia per dimettersi credo che sarà costretto a farlo nei prossimi giorni nelle prossime settimane e cioè quando constaterà che in Parlamento non ha più i numeri e quindi in assenza di maggioranza ci sarà poco da discutere bisognerà prendere atto della situazione e dimettersi poi non so in quale forma in quale termini e soprattutto non so se avrà ancora la possibilità di incidere diciamo così sul prossimo governo ecco questo è un quesito che non solo tutti poni Federico Rampini domani si vota il rendiconto generale dello Stato oppure è in realtà una fiducia al governo o sfiducia al governo si vota il rendiconto che è un atto importante per i nostri conti pubblici quindi è un passaggio che oltretutto è già fallito una volta questo passaggio se per caso però dovessero mancare gli numeri sarebbe un'ulteriore prova che non c'è altro tempo da perdere bisogna cambiare governo ecco intanto comunque Berlusconi oggi ha resistito subito dopo la pubblicità cercheremo di capire perché cerca di resistere così tenacemente Berlusconi cercheremo anche di capire che cosa succederà dopo le dimissioni che prima o poi le danno per scontate le danno per scontate tutti gli osservatori e cercheremo anche di capire se è pronta un'alternativa c'è un centro-sinistra che davvero potrebbe prendere il testimone e a questo riguardo siccome Federico Rampini ha scritto un libro che è da poco nelle librerie che si chiama La mia sinistra edito dalla Mondadori e allora cercheremo di capire cosa succede a sinistra vero Vittorio Feltri tu comunque di sinistra non sei mai stato no? No io intanto sono stato di sinistra fin da quando avevo 18 anni quando mi iscrissi al partito socialista e sono rimasto in Italia l'unico di sinistra ah questo è molto interessante Federico Rampini tu invece diciamo sei stato anche comunista da giovane e poi cercheremo di capire se Feltri è l'unico uomo di sinistra rimasto subito dopo la pubblicità questo ed altro grazie a tutti